Poi c'è il tema umanitario, l'argomento legato ai profughi. Sono già oltre 2 milioni e mezzo i civili fuoriusciti dall'Ucraina in cerca di riparo all'estero. Alcune decine sono arrivate nel nostro paese. Il governo ha stanziato 10 milioni di euro per l'accoglienza e ha proclamato lo stato d'emergenza fino al 31 dicembre. Il numero di rifugiati dall'Ucraina, tragicamente, ha raggiunto i 2 milioni e mezzo. Stimiamo che circa 2 milioni di persone siano sfollate all'interno dell'Ucraina. Milioni di persone costrette a lasciare le loro case da questa guerra senza senso. Con questo tweet, Filippo Grandi, alto commissario ONU per i rifugiati, ha aggiornato i numeri delle persone in fuga dall'Ucraina che si sta riversando in Europa. In Italia, solo nelle ultime 24 ore, sono arrivati 4.500 ucraini. Dall'inizio del conflitto, più di 31.000, in maggioranza donne, quasi 16.000, e circa 13.000 minori, neanche 3.000 gli uomini, secondo i dati del Viminale. D'emergenza ai rifugiati ha parlato anche Mario Draghi, ieri da Versailles. Nel nostro paese la protezione civile a gestire i flussi di immigrati, ma è fondamentale il terzo settore, ha detto il Premier, tenendo conto che il 90% di chi è già arrivato nel nostro paese sono donne e bambini. Molti sono orfani di guerra che devono essere tutelati e protetti dai tribunali per i minori. Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre e stanziato 10 milioni di euro per poter accogliere e assistere la popolazione ucraina nel nostro paese. Tanti hanno già raggiunto familiari o conoscenti, mentre il sistema di accoglienza del terzo settore dei privati cittadini, pronti ad ospitare i profughi, non può reggere il ritmo di oltre 4.000 ingressi al giorno. Il Viminale sta lavorando ad una piattaforma informatica su cui far confluire tutte le offerte di disponibilità. Ci sono 8.000 posti nei centri di accoglienza straordinari, CAS, nel sistema accoglienza d'integrazione, SAI. Protezione civile e regioni cercano soluzioni abitative. Potrebbero essere utilizzati i beni sottratti e la criminalità organizzata, ma anche le strutture pubbliche e private usate per l'emergenza Covid, come gli hotel e le caserne.